Prima del fischio d'inizio i tifosi ucraini speravano di battere la Svezia al loro esordio in un europeo e per spingere i loro beniamini alla vittoria si sono riversati in migliaia per le strade della città di Lviv dove un mega schermo irradiava le immagini della partita fra le due nazionali giallo-blu dopo un primo tempo noioso terminato a reti inviolate con solo il palo di Ibrahimović i tifosi di casa impazziscono nella ripresa è il re di vivo Andriy Shevchenko a rispondere con una doppietta al vantaggio momentaneo di Ibrahimović il colpo di testa della vittoria manda in delirio la folla come possiamo vedere Ora l'Ucraina guida il gruppo D davanti a Francia e Inghilterra e si prepara ad affrontare proprio i blues di Laurent Blanc